Nel corso del Nokia World dello scorso anno, il colosso finlandese Nokia aveva annunciato le prime soluzioni equipaggiate con il sistema operativo mobile di Microsoft, Windows Phone. Quello che sarebbe dovuto essere il top di gamma, ovvero l'Ume 800, portava tuttavia in doto delle caratteristiche che hanno lasciato perplesso più di un utente. Per questo motivo, pochi mesi dopo, in occasione del CS di Las Vegas, Nokia ha rimpolpato la propria gamma con un nuovo esemplare, l'Ume 900, il vero terminale di punta della gamma Windows Phone. Nokia l'Ume 900 riprende nelle forme il fratello minore l'Ume 800, con dimensioni tuttavia decisamente maggiori. Dimensioni dettate da una delle caratteristiche del nuovo terminale, ovvero il display, che porta in doto la tecnologia Clear Black AMOLED, ma al contrario della precedente versione misura ben 4,3 pollici. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel e permette di registrare video in HD a 720p, mentre quella frontale offre un sensore da 1,3 megapixel. Il processore in doto opera una frequenza massima di 1,4 GHz, accompagnato da 512 MB di memoria RAM e da 16 GB di memoria dedicata allo storage. La capacità della batteria è aumentata e ammonta ora a 1800 mAh. Il sistema operativo con cui l'Ume 900 giunge sul mercato è ovviamente Windows Phone nella sua versione 7.5 Mango. Inizialmente annunciato come un'esclusiva per l'operatore americano AT&T, l'Ume 900 è stato reso disponibile proprio in queste settimane anche in alcuni altri mercati europei, tra cui quello italiano. Il prezzo di vendita è di 599 euro, tasse incluse.